Va cambiata la manovra del governo, Toscana penalizzata in piazza per difendere i diritti di tutti. È con questo slogan che CGL e UIL scenderanno in piazza venerdì 17 novembre contro la legge di bilancio e le politiche economiche e sociali fino a ora messe in campo dal governo. È stato proclamato per quella giornata uno sciopero di otto ore e una manifestazione che la mattina partirà da Piazza Indipendenza alle 9 per arrivare in Piazza Santissima Annunziata. La Toscana, hanno spiegato i segretari regionali delle due sigle sindacali, esce particolarmente penalizzata dalla manovra del governo. Sono stati tagliati 31 milioni di euro agli antilocali e 300 sulla spesa per la sanità, dicono. Si stima un taglio sulle pensioni, una volta regime, le nuove norme per oltre 30.000 toscani. Questo, spiegano, in una situazione già caratterizzata da una prevalenza del lavoro povero e in appalto con migliaia di toscani senza continuità occupazionale e con paghe a meno di 1.000 euro al mese. Ha fatto una campagna elettorale portando avanti slogan che, ben precisi, sul superamento di certe situazioni, ecco, praticamente se le rimangiate tutte in peggio. Sì, noi vogliamo rilanciare fortemente il lavoro, il lavoro di qualità e ben pagato. La manovra non prevede quasi niente per quanto riguarda il rilancio delle politiche di redditi. Se non degli interventi spot, una tantum, noi invece vogliamo degli interventi strutturali. La manifestazione e la giornata di sciopero in Toscana avranno anche lo scopo, spiegano, di porre l'attenzione sulla recente alluvione, con proposte concrete che i sindacati vorranno portare al tavolo al quale aspettano di essere convocati dal presidente, commissario straordinario Eugenio Gianni. Nella quale potremmo, per esempio, concordare che si può dare un'ora di lavoro, casomai lo facessero, sarebbe cosa buona e giusta, raddoppiata dalle aziende, per farle confluire nel fondo regionale d'aiuto agli alluvionati. Su questo stiamo lavorando con i nostri servizi, sia come UIL che come CGL, per dare un aiuto fattivo alle popolazioni, quindi per raccogliere materiali che servono, ma raccogliere anche risorse da dare alla popolazione.